Vanda Nara pronta al divorzio dopo il tradimento di Mauro Icardi e Eugenia China Suarez, il calciatore disperato minaccia di non giocare più Vanda Nara chiude con Mauro Icardi, dopo aver scoperto il tradimento con la modella e amica Eugenia China Suarez. Il calciatore pare essere disperato e si vocifera che abbia minacciato di abbandonare il calcio Scopriamo cosa sta succedendo. Leggi anche, Icardi e Vanda Nara, matrimonio finito e via al divorzio, spuntano le chat con Eugenia Suarez Matrimonio in crisi, Mauro Icardi ha tradito Vanda Nara? Il presunto tradimento di Mauro Icardi alla moglie Vanda Nara ha fatto velocemente il giro del web Ma come è scoppiato il gossip e cosa sarebbe successo? Il tutto è venuto a galla per una storia Instagram in cui la moglie del calciatore ha scritto, subito dopo Vanda ha archiviato le foto con il marito e ha smesso di seguirlo su Instagram Una rottura social ha tutti gli effetti. Vanda Nara pronta al divorzio, come ha scoperto il tradimento? Stando a quello che riporta la Gazzetta dello Sport, Vanda Nara e Icardi sarebbero vicino al divorzio La donna pare abbia addirittura ingaggiato un investigatore privato per documentare il tradimento con Eugenia Suarez, Icardi lascia il Paris Saint Germain per riconquistare Vanda Nara? Durante il programma Los Angeles de la Magnana sono trapelati numerosissimi dettagli sul presunto divorzio tra Vanda Nara e Mauro Icardi Il calciatore starebbe tentando in tutti i modi di riconquistare la fiducia della moglie, che non pare affatto intenzionata a perdonarlo Stando a quello che riporta Fampage, Icardi è disperato e sarebbe pronto a non giocare più se la moglie non decide di perdonarlo Ma quindi il tradimento c'è stato? Secondo i vari rumors, Icardi avrebbe negato un vero e proprio incontro privato con la modella Tra loro ci sarebbe stato solo lo scambio di messaggi scovato dalla moglie I messaggi tra Icardi e Eugenia China Suarez a quanto pare, quindi, la crisi tra Mauro Icardi e Vanda Nara non era affatto uno scherzo o un teatrino per finire sulle copertine dei settimanali Il matrimonio potrebbe essere davvero finito e il divorzio vicino Secondo i media argentini, infatti, il calciatore si sarebbe davvero invaguito di Eugenia Suarez Alla base della rottura e della reazione soc della moglie ci sarebbero delle chat tra Icardi e la modella, dei messaggi compromettenti scoperti da Vanda Nara sul telefono di Mauro Il quotidiano argentino Clarina ha addirittura pubblicato alcuni presunti messaggi del calciatore e della Suarez Eugenia Suarez età, chi è l'amante di Icardi, con cui ha tradito Vanda? Quanti anni ha? La bomba sul tradimento di Mauro Icardi alla moglie ha preso piede velocemente sulle testate di gossip, dopo il messaggio su Instagram di Vanda Nara Ma i due si sono veramente lasciati? E, soprattutto, chi è la donna con cui il calciatore avrebbe tradito la moglie? Sul web si vocifera che potrebbe trattarsi di Eugenia Suarez, famosa modella internazionale di 29 anni E voi cosa ne pensate? Per restare aggiornato per scoprire in anteprima tutte le news in merito al matrimonio e al presunto divorzio di Icardi e Vanda Nara Grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione per farci discutere di seguito Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video, ciao!